La luce in fondo al tunnel rappresenta la possibilità per il farmacista di trovare attraverso delle soluzioni tecnologiche come la Goldman strumenti per aumentare il loro business, per aumentare il loro fatturato. Io sono molto contento di aver fatto questa scelta perché è un robot veramente molto affidabile che mi ha consentito un risparmio, nel mio caso, molto importante. Io ho una farmacia che serve parecchie postazioni, cinque, facciamo moltissime ricette al mese e questo robot serve cinque postazioni con una grande velocità e grande affidabilità. Grazie per la visione!